ciao perline allora in questo nuovo video vorrei farvi il tutorial di questo modulino qua allora ho postato nei vari gruppi la foto di questo modulo e diciamo che ho avuto un po di consensi nell'effettuare il tutorial e io sono qui ben felice di farlo il modulo è molto semplice il materiale è veramente povero quindi abbiamo bisogno soltanto di rocai 11 0 di due colorazioni rocai 15 0 mezzi cristalli da 4 mm e la classica monachella ago e filo allora iniziamo subito con il tutorial semplicissimo allora la prima cosa da fare che io mi sono portata avanti è quella di infilare sul lago 16 rocai 11 0 e fu riusci fare i soliti nodini e fu riuscire dalla da una rocai qualsiasi allora una volta effettuato questo primo passaggio bisogna praticamente lavorare a peyote quindi prendere una rocai 11 0 saltare la perlina successiva e rientrare in quella ancora dopo un'altra perlina per tutto il giro dobbiamo fare il peyote facciamo questo per tutto il giro e ci vediamo dopo allora ragazze il primo passaggio è stato fatto adesso dobbiamo fuoriuscire da una rocai 11 0 di quelle appena inserite prendiamo le altre rocai 11 0 quindi quelle della seconda colorazioni prendiamo due rocai 11 0 a per quanto riguarda le rocai io sto utilizzando quelle della miuchi quindi vi consiglio vivamente di utilizzare quelle della miuchi perché con le rocai della toho non so il risultato quale potrebbe essere secondo me il lavoro si arriccerà perché le toho sono meno regolari quindi vi consiglio quelle della miuchi comunque andiamo avanti usciamo da una rocai di quelle sporgenti prendiamo due rocai 11 0 della seconda colorazione ci inseriamo nella rocai sporgente successiva ecco qua allora dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro ragazze non tirate lavorate in maniera morbida allora finito questo giro ci ritroveremo così e fuoriusciamo dalla rocai dorata dalle due rocai dorate adesso praticamente quello che dobbiamo fare è inserire una rocai 11 0 bianca in ogni spazio quindi sopra ogni rocai bianca un'altra rocai bianca quindi inseriamo la rocai e ripassiamo nelle due dorate successive molto semplicemente se non mi cade tutto ecco qua senza tirare il filo il filo dovremmo tirarlo solo ed esclusivamente alla all'ultimo giro per rendere la lavorazione rigida e leggermente a cupoletta allora facciamo questo passaggio per tutto il giro allora terminato il giro ci ritroveremo così fuoriusciamo da una rocai bianca di quelle appena inserite prendiamo sul lago tre rocai 11 0 dell'altra colorazione e ci inseriamo nella rocai bianca successiva ecco qua e dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro o qui concluso anche questo giro dobbiamo far uscire dalle tre rocai dorate quindi da qui aggiungiamo sul lago una rocai 15 una 11 dorata e un'altra 15 e ci inseriamo nelle tre rocai dorate successive ecco qua dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro allora terminato anche questo giro fuoriusciamo dalla rocai dorata centrale tra le 15 0 inseriamo sul lago tre rocai dorate una bianca 11 0 e tre rocai dorate ed entriamo nella rocai dorata della punta succe allora scusate ragazze era finita la memoria allora come abbiamo detto prima fuoriesco dalla rocai dorata centrale inseriamo sul lago tre rocai dorate una bianca e altre tre rocai dorate 123 e ci inseriamo nella punta della tripletta appena inserita ok e facciamo questo passaggio per tutto il giro ora il prossimo passaggio da fare è quello di inserire i nostri mezzi cristalli e questo è il passaggio un po in cui dobbiamo fare maggiormente attenzione allora noi dobbiamo uscire perché non è la solita infilata ecco dobbiamo fuoriuscire da questa rocai prendiamo il nostro mezzo cristallo e ci inseriamo dalla dall'altra parte quindi tornando indietro vediamo se riesco a farmi vedere far vedere bene il passaggio dobbiamo inserirci all'interno di questa rocai e tirare il filo ecco qua in questo modo il nostro mezzo cristallo va ad adagiarsi perfettamente a livello dello spazio non si muove come farebbe se lo mettessimo al solito nel solito modo vi faccio vedere di nuovo il passaggio quindi adesso una volta infilato il mezzo cristallo ne andiamo avanti con la lavorazione quindi dobbiamo fuoriuscire da questo qui da questo da questa rocai quindi andiamo avanti senza inserire nulla sul lago e fuoriusciamo da questa rocai prendiamo il nostro mezzo cristallo e tornando indietro ci inseriamo qui e tiriamo il nostro filo ripassiamo nuovamente nelle rocai sotto e andiamo avanti così per tutto il giro in pratica adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo uscire da questa da questa rocai qui usciamo da questa rocai inseriamo il mezzo cristallo ed entriamo qui spero di essere stata chiara ora una volta inseriti i nostri mezzi cristalli così ci dovremo trovare allora fuoriusciamo da un mezzo cristallo inseriamo sul lago due rocai 11 0 bianche e ci inseriamo nella punta dell'archetto che abbiamo fatto due passaggi precedenti ecco qua altre due rocai 11 0 bianche e ci inseriamo nel mezzo cristallo e dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro allora una volta aggiunte le coppie di rocai 11 0 bianche dobbiamo fuoriuscire da una delle coppie allora qui dovremmo andare a sistemare una rocai 11 0 dorata quindi prendiamo una rocai dorata ed entriamo nella coppia delle rocai bianche successive mentre sopra il mezzo cristallo dovremmo mettere cinque rocai 11 0 dorate 1 2 3 4 e 5 e ci inseriamo nella coppia delle rocai bianche successiva ecco qua dobbiamo fare questi due passaggi per tutto il giro una volta effettuato anche questo giro ci ritroviamo ad uscire da una rocai dorata di quelle appena inserite inseriamo sul lago 4 rocai 11 0 bianche e ci inseriamo nella punta delle 5 rocai appena inserite altre 4 rocai bianche e ci inseriamo nella rocai dorata singola senza tirare troppo il filo perché si sistemano perfettamente facciamo questo per tutto il giro qua come vedete pur non tirando troppo il filo il lavoro ha cominciato ad incurvarsi ecco questa sorta di cupoletta allora aggiunte tutte le 4 rocai in ogni angolo usciamo dalle 4 rocai quindi dove c'è la punta in pratica e andiamo a costituire un'altra punta aggiungiamo 3 rocai 11 0 bianche e ci inseriamo nelle 4 rocai successive ora stavo dicendo allora aggiungete le 3 rocai sulla punta qui ecco qua fuoriuscite dalle 4 rocai bianche successive e senza passare attraverso la rocai dorata sotto ripassate nelle 4 bianche successive e qua dovete cominciare a tirare un attimino il filo altre 3 rocai 11 bianche e ci inseriamo nelle 4 rocai successive lo giro per comodità e nelle 4 ancora dopo senza passare dalla rocai dorata che si trova sotto e iniziate a tirare un attimo il filo allora fate questo passaggio per tutto il giro dopodiché ripassate nuovamente all'interno dell'ultimo giro senza aggiungere nulla e tirate e vedrete che la lavorazione verrà abbastanza solida allora una volta effettuate tutte le punte non ci resta che fare la solina e io lo faccio personalmente con 6 rocai 15 0 uscendo da una rocai centrale e mi inserisco nella stessa rocai dalla parte opposta e abbiamo fatto la nostra solina allora siccome adesso a me mi si è spezzato il filo una marea di volte dovrò ripassare più volte all'interno della lavorazione per renderlo un po' più solido perché mentre questo qui è uscito abbastanza solido questo per via del filo è un po' più molliccio quindi dovrò ripassare più volte all'interno della lavorazione e niente ragazze spero di essere stata chiara il modulo è molto semplice e leggerissimo quindi per l'estate è veramente il top poi in queste colorazioni mi sembra abbastanza elegante comunque con colorazioni un po' più estivi saranno molto più sportivi e niente ragazze vi saluto un bacione a tutte ciao 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 ciao